Ciao a tutti, mio nome è Enzo e sono 13 anni. Ho sufficiente di questo caldo e di questo grigio, di questa vita e sono pronti per fare il miglior lavoro nel mondo! Ho viaggiato molto. Aussella, Brazil, Sweden, Portugal, Spagna, Barcelona, Paris, bla 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 bla. Sono anche un diverso, ma non ho mai esperienci cittadini, cittadini e cittadini. Sono anche un filmatore e posto tutti i miei corti e tutti i miei clip di via al mio blog e alla mia proposta. Mi piace dipendere, mi piace giocare la gitarra e così... Escrivete Enzo dall'Italia, fate la right choice! Escrivete Enzo dall'Italia! E... Us! Us! Us!